Ha preso in via a Milano la prima edizione del tour dell'educazione finanziaria promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del gruppo generali. Un'iniziativa in sei tappe realizzata con la collaborazione delle istituzioni locali per migliorare il livello di educazione finanziaria assicurativa dei cittadini. Su questo fronte il Paese resta ancora sotto la sufficienza come messo in luce dall'ultima edizione di Edufin Index, l'osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari assicurativi degli italiani. Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni. In Italia il tema dell'educazione finanziaria è di grande attualità. L'educazione finanziaria della nostra popolazione è inferiore a quella dei Paesi europei ed è legato quindi ad un tema di sviluppo sostenibile del Paese e di diffusione di benessere. All'interno della popolazione un segmento particolarmente fragile è proprio quello delle donne ed è per questo che proprio nella giornata dedicata alle donne, l'8 marzo, abbiamo deciso di far partire da Milano, che è la capitale della finanza, questo tour dedicato all'educazione finanziaria e al femminile. A Palazzo Marino si è svolto un dibattito sugli ostacoli che devono superare ancora oggi le donne per una piena autonomia finanziaria e autodeterminazione. La Human Resources Director di Alleanza Assicurazioni Marina Montepilli e la Presidente del Centro Studi Grande Milano Daniela Mainini. L'ostacolo principale dalle indagini che noi abbiamo fatto fino ad oggi per raggiungere i nostri obiettivi è dato dall'interesse che viene direttamente dalle donne perché quello che abbiamo visto rispetto a tutte le analisi che abbiamo fatto è che c'è anche uno scarso interesse a informarsi su questo tema. Quindi utilizzare dei linguaggi e dei format diversi che siano podcast, rubriche, consigli molto pratici ci aiuta a intercettare un linguaggio diverso e a sviluppare questo bisogno e questa curiosità. È straordinario pensare che il binomio debba riprendere ed essere necessario, cioè determinazione, autodeterminazione quindi finanziaria e autodeterminazione nella vita perché è solo gestendo un patrimonio che la donna può essere libera dalle scelte.